Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna fino alle 6 di domani mattina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Bettolle-Perugia è chiuso lo svincolo di Cortona in direzione Perugia. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori in entrata e uscita lo svincolo di Follonica-Est in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze ricordiamo che sono in corso lavori di pavimentazione su ponte Vespucci di vieti di sosta e transito da Lungarno Vespucci a Lungarno Soterini. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.